Ce n'è di più da dove proviene. Vergogna! Ma è impossibile! Impossibile! Mai visto arrivare! Mai visto arrivare! Cos'è? Via dalla mia strada! Non l'ho mai chiesto! Non spingermi! I liandri ti portano il futuro, oggi. Oh! Ucciso! Mi prendi in giro? Verso Berserk! Sotto attacco pesante! Porta a casa! Sopravvivenza del più forte! Ce n'è di più da dove proviene. Mi prendi in giro! Restano 5 incisioni! E stai giù! Cerchi liandri! La sicurezza ha la priorità di un nuovo! Combattere! Rasta il giro! Non smette! La squadra russi! La squadra russi! La squadra russi! E vince la partita! Ricorda! Stai sempre attento! Abbiamo bisogno di quel mainframe e dei codici per accederci. La prima cosa che puoi fare è inseguire Matrix per rubargli i codici. O se te la senti andare incontro a morte sicura su Hyperion. Al quartier generale degli Izanagi vogliono un posto di osservazione più avanzato per monitorare i movimenti dei Krall al nord. Hanno trovato una struttura che sarebbe perfetta per le comunicazioni militari, se non fosse per il bot dei liandri che stanno a guardia. Dobbiamo fare un blitz in segreto, perciò potremo usare pochi veicoli. Ma non dovrebbe essere un problema, visto che le difese sono solo un po' di fanteria disorganizzata e un paio di torrette. Gioca! Credo di essere stato chiaro. Così sì. Doppia uccisione. Rispetto. Perché mi ha perso? Multikiller. Dice che una volta possiamo essere... BAM! Peccato per lui. BAM! 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 Potrei farlo per tutto il giorno. Mettili in fila e distruggili. A rimozione ricordi di vita. E' vero. È vero. E' vero. Dice che quai! Mi prendi in giro? Ho scusate ma companies ho scusate porta a casa porta a casa accesso ai parametri vitali in corso oi 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 porta a casa porta a casa ucciso senza sud s es 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo, non ne posso più di starmene senza far niente. Ne sentirai l'impatto fra poco. Prezzi. La tua programmazione è stato ripristinato dopo un grave errore. La tua programmazione è inferiore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti prenderò. Grazie a tutti. Tutto ciò di cui ho bisogno è un grande gatto e mi sentirei come Alice nel Paese della Meraviglia. Infatti, per quanto dovessi correre, resterai lì dove sei. Grazie a tutti. Tutti. Tutti i vettori proiettati con successo. Perfetto. Perfetto. Il più basso come un denominatore. Il più basso come un denominatore. Il più basso come un'altra parte. Un'altra parte. Uff. Il più basso hemma. Il più basso è un'esercizio. Il più basso è un'esercizio. Alzzati al combattito 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 Alzzati al combattito